Stanno fatto 70 anni, però da un certo punto di vista sono ancora un bambino. Cogliere, capire, vedere l'intelligenza degli altri, è veramente una grande soddisfazione. Creare dei luoghi dove le persone stanno bene, credo che sia il fine ultimo dell'architettura. E io credo che l'ambiente costruito, l'architettura, sia l'ambiente naturale dell'essere umano. L'architettura o i designer non cambiano il mondo in una sorta di grande modo, ma magari in piccoli passaggi. L'arte in generale è la cosa più utile fra le cose inutili. L'architettura invece no, l'architettura ha sempre avuto una funzione. La città che ci aspetta sarà una città naturale. L'architettura e i clienti hanno un obiettivo, cioè creare un prodotto完attivo. È importante il percorso, ma la cosa più importante è il risultato. Ormai ogni progetto è talmente complesso che il mestiere dell'architetto è gestire la complessità. Un architetto deve essere un ottimista per forza. L'architettura Grazie a tutti. Grazie a tutti.